L'ambiente è una cosa seria e in Campania spesso lo dimentichiamo, o meglio, lo dimenticano le istituzioni. Un altro esempio drammatico è quello che è accaduto giusto pochi giorni fa in provincia di Caserta con un alluvione che ha travolto due persone che addirittura hanno perso la vita, perché ormai sono passati molti giorni e non si trovano neppure i corpi. Perché evidentemente c'è una questione che il nostro territorio bellissimo, straordinario, ma molto delicato pone, che è quella del dissesso idrogeologico. La circostanza che nel tempo il lavoro dell'uomo e l'assenza di un'attività sia di prevenzione, sia di organizzazione, sia di gestione dei fenomeni naturali e di combinazione tra quello che fa l'uomo e quello che la natura pone in essere e quindi le necessarie cautele che devono essere adottate, ha fatto sì che da più parti nella nostra regione ci siano emergenze, che purtroppo però sono spesso e volentieri sottovalutate. Va detto che c'è una responsabilità a livello istituzionale e credo che a partire dalla regione, che su questo tema latida da molti anni. Ricordo che nella programmazione dei fondi europei, la grande fonte di gestione delle risorse per il nostro territorio, quella che è appena caduta, non c'è stato un euro speso per questo tema. Addirittura, io l'ho denunciato con forza, decine e decine di milioni di euro che erano destinate al dissesso idrogeologico sono stati invece utilizzati drammaticamente per degli appalti un po' alla rinfusa, fatti per sistemare delle platele disoccupate e organizzate, ma soprattutto per mettere in piedi le attività di tipo quasi clientelare, la manutenzione delle strade provinciali, la manutenzione ordinaria delle strade provinciali. Mentre invece noi abbiamo una serie di vicende che sono drammatiche, ricordo l'alluvione di Ischia che fu poi contrabbandata per un tema collegato esclusivamente all'abusivismo edilizio, invece molta parte era per l'assenza di manutenzione, ricordo le cicliche vicende che si sono verificate in questi anni e che hanno portato a morire molte persone e quello che può accadere, specie oggi che la natura sembra aver modificato nel nostro territorio il suo corso, con eventi sempre più forti, violenti, che inducono ad avere cautela e attenzione. Per non parlare dei grandi temi storici della nostra terra, la necessità di bonificare i suoli, come nel caso della terra dei fuochi, la necessità di mettere a piedi insomma un sistema ordinario. Ecco, la grande scommessa sulla quale occorrerebbe un investimento serio in aspetto di progettazione prima ancora che di risorse, è quella di un piano di contrasto al dissesso idrogeologico che fosse ordinato, articolato e strutturato per territori, per esigenze, per modalità con le quali essere attuati. E addirittura sarebbe anche logico e corretto immaginare un piano di prevenzione progressiva. Ci sono delle situazioni che sono oggettivamente più pericolose, più incipienti nel pericolo e quelle che invece possono essere gestite con maggiore cautela e soprattutto con tempi differenti. Ci aspetteremmo che questa amministrazione regionale quindi utilizzasse le risorse della nuova programmazione europea, miliardi di euro, come pure destinasse una parte del fondi del PNRR e della programmazione di queste risorse nella direzione di articolare un sistema di tutela del nostro territorio. Ne abbiamo bisogno, ne hanno bisogno le nostre comunità, ne ha bisogno soprattutto il rispetto della vita umana e anche la nostra natura. Su questo ci giochiamo una partita importante. Se, come purtroppo i dieci anni di esperienza dell'Ukiana ci insegnano, non accadrà con questa amministrazione, sicuramente con la prossima che noi speriamo abbia una guida e soprattutto una capacità strategica differente da quella confusionaria e anche un po' arrogante attuale, possa andare invece nella direzione di mettere come priorità quella del contrasto al distesso ideologico e farlo in modo serio, articolato e organico e quello che sarà l'impegno di chi uscirà vincente dalle elezioni del prossimo anno. Grazie a tutti!